bentornati amici nel mio let's play pet clinic cats and dogs come vedete sono arrivata a livello 20 iniziamo così vi faccio vedere tutte le novità allora amici abbiamo migliorato parecchio la clinica ci sono nuove decorazioni in ogni stanza ma la novità più grande è appunto qui in questo sgabuzzino dove adesso dobbiamo ricordarci di prendere il cibo per animali e andare appunto a rifornire le ciotole che si trovano nella sala d'attesa per i nostri pazienti e devo dire che i nostri amici pazienti finiscono molto in fretta queste ciotole quindi bisogna sempre ricordarsi di andare a ricaricare vedete anche per l'acqua altrimenti non si può andare avanti nei livelli anche qui quindi diamo dell'acqua perfetto è un'altra cosa fondamentale a parte ricordarsi di aprire i regali per ecco vedete se c'è una donazione per aumentare il proprio budget guardate anche un bellissimo disegno peso un quadro che poi andremo ad appendere per far diventare sempre più bella la nostra clinica e anche appunto sempre per andare avanti con i livelli di ricordarsi di dare da bere alle piante adesso io do ancora da bere alle piante ok e dopo aver fatto tutti i compiti della clinica posso continuare andare avanti mi manca ancora pochissimo per passare al livello 21 e devo migliorare la sala del personale quindi devo fare ancora qualche visita e poi vi faccio vedere ancora le novità ok amici ora abbiamo un paziente con il quale posso far vedere una piccola novità dal momento che abbiamo migliorato la farmacia possiamo curare questo gattino che si chiama eli ieri la nostra piccola furia stava giocando con il cane dei vicini e temo che abbia preso una botta non poggia più il peso sulla zampa e zoppica vistosamente è l'abissino di luke quindi iniziamo a curarla così potete vedere la novità nelle cure sali purelli e iniziamo la terapia ed ecco abbiamo uno spray sicuramente disinfettante per la piccola eli ok e da spruzzare in due punti ok poi si può procedere con il solito disinfettante e la pomata miracolosa che cura tutte le ferite degli animali e infine il solito bel cerottino ormai mi sono abbastanza specializzata in queste cure perché dovete sapere amici che per arrivare in alto con i livelli quindi superarli bisogna davvero curare tantissimi animali ed ecco qui eli giocando la vostra simpatica canaglia si è procurata alcune abrasioni di media entità sulla zampa posteriore destra e quindi direi consiglio applicate della crema sulla zampa posteriore destra una volta al giorno e assicuratevi che non la lecchi perfetto ciao eli sei stata bravissima e super coraggiosa puoi andare a casa molto molto graziosa e dolce ok amici continuo ancora a guadagnare qualche soldino per poter migliorare la clinica o come vedete come vi avevo detto i nostri amici pazienti hanno divorato tutto quindi mi metto un po a mettere in ordine a rifornire cibo e acqua ecco guardate questo dolce cagnolino e gattino che mi chiedono da mangiare e poi ricomincio la registrazione per farvi vedere ancora le novità bene amici abbiamo rifornito la stazione di rifocillamento dei nostri pazienti e abbiamo finito la nostra giornata lavorativa e abbiamo guadagnato abbastanza soldi per migliorare la sala del personale quindi finalmente passare a un livello ancora più in alto il livello 21 che dovrebbe essere un livello che ci fornisce qualche cambiamento in più quindi iniziamo benissimo livello clinica 21 complimenti grazie anna questa elisa è una mia amica di lunga data oggi è il suo primo giorno ok quindi sblocchiamo a livello 21 anche un nuovo personaggio quindi sono io che la presento ad anna puoi farle fare un giro nella clinica ma certo benvenuta nella nostra clinica hai avuto difficoltà ad arrivare questa è la sala d'attesa di fronte c'è la sala delle terapie e accanto c'è la sala del personale come primo giorno potrai dare una mano all'accoglienza e nella sala delle terapie guarda ecco il tuo primo paziente del giorno vediamo se riesci a recuperare le informazioni inserite nel sistema ecco lisa buon pomeriggio qual è il suo nome il mio nome è tom come posso esserle d'aiuto ok tom non sa cosa dire ehi di nuovo ah sì il mio tas si è fatto male bene allora seguitemi nella sala delle terapie lì potremo prenderci cura di tas ok intanto qui i lavori vanno avanti andiamo un po a dare un occhio nella sala delle terapie che cosa succede ok direi niente non li vedo quindi mi sa che devo concludere la giornata e vedremo come si evolve questa storia intanto apro qualche pacchetto faccio pausa alla registrazione e ricomincio più tardi ed eccoci amici ricomincia una nuova giornata apriamo le strutture quindi andiamo a dare un occhio alla sala ecco qui alla sala del personale che è stata migliorata quindi vediamo se prima di tutto se possiamo aggiungere qualche no niente di che quindi diamo solo un occhio wow sì sì parecchio è migliorata addirittura adesso possiamo anche lavare i piatti abbiamo un microonde delle bellissime tendine e adesso possiamo anche sederci a guardare un programma televisivo fantastico ok andiamo un po a vedere come se la cava lisa con tas vediamo un po se adesso hanno sbloccato la storia io vado ad aprire qui c'è anna vediamo un po se c'è lisa no qui non c'è lisa ok allora vediamo un po se riapparirà più avanti nella storia qui c'è il cibo c'è tutto ok tutto ecco qua vediamo un po leggiamo cos'è successo a tas e vediamo se mi aiuterà lisa quindi iniziamo sicuramente a coccolarlo ed ecco tas un bel po di coccole così ci facciamo conoscere da questo nuovo amico e poi leggiamo la la sua scheda e cerchiamo di capire che cosa ok tas ok leggiamo che cosa tas è il boxer di tom appunto e dice che è giù di corda e che il suo pelo è meno lucido quindi io direi di iniziare a curarlo e poi vediamo un po come evolve la storia ok abbiamo curato tas e a quanto pare ha una carenza di vitamine quindi caro tom dovresti passare a una dieta più nutriente per il tuo amico quattro zampe ok ciao tas questa clinica non è niente male è molto pulita concordo non lavoro qui da molto tempo ma conosco i proprietari da una vita ha iniziato da poco sì oggi è il mio primo giorno che emozione sembra davvero una clinica deliziosa sì lo è penso che passerò più spesso in futuro alla prossima allora è piacere di averla conosciuta che ragazzo bizzarro prima mi fissa senza dire nulla e poi diventa improvvisamente un chiacchierone tu dici io invece l'ho trovato carino non saprei ok quindi in questo episodio siamo riusciti a sbloccare due nuovi personaggi io quindi direi di salutare tas ciao amico è stato davvero un piacere conoscerti ok e direi amici saluto anche voi e vi do appuntamento nel prossimo episodio con la speranza che si evolva ancora la storia che come sapete ormai mi ha fatto diventare così curiosa ovvero quella di jess e di tutti gli animali terrorizzati della vet spa quindi vi do appuntamento e nel frattempo continuo a curare i miei pazienti alla prossima ciao